Pausa lavoro, Menghi dove sei? Menghi ti stanno cercando, vengo a prenderti lì al lavoro e dobbiamo parlare. Per quanto riguarda il resto, allora ragazzi, mi avete scritto in tantissimi per quello che è successo su un sito, mi pare calciomercato.com con questo articolo molto duro, con questo titolo molto forte della Brutta Inter. Io cercherò di dirvi la mia e cercherò chiaramente, come sempre, di difenderla, ma di capire, devi sempre entrare nella testa di chi come, mi pare si chiami Cerruti, non ho capito se è uno vecchio della gazzetta, ma non è uno inesperto. Cerchiamo di capire come mai ha fatto questo titolo, perché poi in realtà se leggete le pagelle sotto sono altissime. Probabilmente ha usato un termine sbagliato, potevo usare cinico, ma sto approfondendo la cosa e cerchiamo un po' di capire che cosa è successo. Calciomercato è un sito della Madonna, che tra l'altro mi piace un sacco, un sacco, e non credo, non rientra assolutamente nei siti anti-interisti. Ve lo garantisco, anzi, io ho molti amici, ve lo garantisco, guarda, anzi, vi dico anche delle cose, sono molto amici anche dell'ambiente interno. Si vede che qualcuno ha visto una partita, vabbè, poi ve lo dico nei particolari, appena ho qualche news in più, ma evidentemente la partita è un po' come l'ha vista un mio carissimo amico Caro Andre, che saluto, ciao Caro Andre, e l'ha vista probabilmente come l'ha vista Cerruti, Cerruti con due R o una R, non lo so. Comunque, come l'ha vista? Ha visto un Inter che io premetto che non sono d'accordo né sull'aggettivo né sul fatto che sia stata brutta. Io penso che ci siano state tre occasioni da una parte, quattro dall'altra, e la partita si sia risolta lì. Però portare la partita a giocarla in quel modo, secondo me, è stata una grandissima vittoria di Conte, calcolando le assenze. Quindi, se non va bene quando giochiamo, è chiaro che a Barcellona abbiamo fatto i numeri e abbiamo giocato in maniera splendida, però calcolando tutta una serie di cose, la partita è stata un po' seduta e a tratti un pochino sul sommario. Dai, questo giro palla a me fa girare le palle. Poi è chiaro che trovi l'imbucata, però cerchiamo di capire, vediamo un po' di approfondire. Ho ricevuto tutte le vostre segnalazioni e sapete che, se posso, nel mio piccolo porto avanti sempre la difesa dell'Inter. Vorrei capire, mi piacerebbe poter parlare con queste persone, mi piacerebbe fargli dei quesiti e capire esattamente come l'ha vista. L'articolo l'ho letto, vi tengo aggiornati. Poi, calciomercato. Prima ho parlato con Dario Calbi, lui parlava di Muller e arrivano altre conferme di Muller. Anzi, arrivano conferme soprattutto dai giornali tedeschi. Ho chiamato un mio amico in Germania, che lavora là. Non è Mario Inter, che saluto. Ciao Mario. È proprio uno che lavora là e conosce benissimo il calcio. E mi ha, come Christos, che saluto, che lui invece è l'inviato da Londra. Anzi, Christos, facciamo un video. Menghi, ti sto cercando. Menghi, ti vengo a prendere perché mi devi rispondere su Barella. Perché ti stanno, a parte che ti vogliono, perché ti vogliono bene. Ma su Barella dobbiamo parlare, non solo su quello. Voglio sapere se credi che l'Inter abbia fatto il grande passo ieri. Poi, stavo dicendo, sì, dalla Germania arrivano addirittura articoli scritti su Muller, dove sembra che la fase della trattativa sia avanzatissima. E Muller non è tanto il centrocampista, ma è quel giocatore che può fare 170 ruoli. Qualcuno dice che è cotto, qualcuno dice che non è cotto, qualcuno dice che ha 30 anni. È una bella testa calda. È un giocatore tutto un po' dinoccolato, è un po' smagronzo, però è un giocatore che fa la differenza e poi soprattutto è abituato a giocare a certi livelli. È un campione d'Europa e del mondo. Credo che, insomma, tanta roba, poi dipende quanti soldi vuole, perché contratto. Ma non è il centrocampista. Il centrocampista rimane, ripeto, credo, tonali per giugno. Per gennaio io credo a Vidal, perché l'uscita di Vidal combaccia con... anche se l'Inter, secondo me, è su Vidal, vabbè. Per quanto riguarda le altre cose, allora rispondo a un po' di gente su Instagram, perché mi piace un po' rispondere a un po' di gente su Instagram, e si YouTube. Allora, Esposito Nuomeazza è stupenda, magari. Esposito Del Piero in parte sì, Esposito Cassano anche. Ragazzi, qui nessuno si esalta. Attenzione. Qui abbiamo un calciatore che aveva già esordito, che è ufficialmente qualcosa di straordinario. Cioè, nessuno si sta esaltando, però i cavalli di razza si riconoscono alla partenza. E Esposito fa delle cose che solo Balotelli, anzi, fa più di Balotelli. Mentre alcuni calciatori, lo stesso Zagnolo, faceva o ha fatto qualcosina in meno. Anche se Zagnolo, massimo rispetto. Però veramente di tutti i giovani che hanno esordito nell'Inter, questo qua è un giovane che fa paura. Cioè, non è normale quello che fa, non è normale. Finalmente abbiamo un nuovo campione anche noi. Per quanto riguarda, e sono sicuro che sarà un campione. Anche perché sapete che io sono per le squadre da 30 anni in su. Viva Muller, viva Vidal, viva la squadra dei trentenni del triplete. Se dico che è uno un giovane forte, perché ci credo veramente. Poi mi avete detto che Lukaku giocherebbe meglio con una seconda punta vera, tipo Politano-Sanchez. È vero. Lukaku con Sanchez potrebbe spaccare. Sono sicuro che sono entrambe prime punte l'autare Lukaku. Io lo dissi prima di tutti ai primi di settembre. Qualcuno mi aveva anche preso per il famoso culo. E invece avevo ragione io, nel senso che poi tutti hanno riportato. Questa cosa me la tengo stretta. Non voglio fare il figo, non dico che ve l'avevo detto. Questa cosa me la tengo stretta. Perché ho fatto un'analisi dove ho detto che sono due prime punte e moriranno, nel senso buono, cioè vivranno da prime punte. Così è. E l'autaro, nel gioco che fa, veloce, sfrizzante, va per primo sulla palla, si muove di più, fa tutti quei movimenti che, per dire, Icardi non sa fare, non saprebbe fare. E quindi va prima sulla palla e lascia Lukaku un ruolo marginale. In più Lukaku è fisicamente in difficoltà. Gli tocca fare l'Adriano in una partita magari dove c'è da sfondare e non da ripartire. Vedrete che il miglior Lukaku lo vedrete nelle partite in trasferta. Guarda caso, lui segna in trasferta. Ascoltate quando vi racconto le cose. Perché poi voi date a me e io do a voi. E questa è la bellezza del nostro rapporto. Io mi ricordo cosa mi avete detto e voi ricordatevi le mie cose. Lukaku ha fatto il record di gol in trasferta come Milito perché lui ha più facilità nel ripartire. Lukaku io lo metterei solamente, non solamente, lo metterei soprattutto nelle partite in cui c'è da ripartire. Ok? Io per esempio partirei un domani col Barcellona, ci fosse Sanchez, con Altaro Sanchez. Ma se andiamo sotto metterei Lukaku. No, scusatemi, se andiamo sopra mentre vinciamo io poi metterei Lukaku alla fine per andare a fare il secondo. Dico una cosa così. Poi per quanto riguarda altre cose, cos'è che mi avete detto di interessante, che mi avete scritto? No, beh, gli argomenti erano il Menghi, calciomercato, Muller, Vidal, Esposito. Sì, erano questi. Bene, dai, io vado a Caccia del Menghi e cerco di informarmi sul discorso calciomercato.com. Insomma, ok? Fatemi sapere un po' che cosa ne pensate. Perché l'articolo dentro, è il titolo che è brutto, perché l'articolo dentro se guardate le pagelle non è così. E poi ripeto, se posso spezzare una lancia su calciomercato.com è un sito che assolutamente non è pro Inter, non è neanche mai stato un sito anti Inter. Ve lo garantisco perché conosco delle persone e figuratevi, se no avrei già fatto le bandiere per sventolare l'ennesima posizione anti Inter. Qui secondo me c'è questa visione, è una visione che ha avuto anche il caro Andre, nel senso che qualcuno ha visto in questa partita un qualcosa che non era vicino, siccome ci fanno due palle così col sarrismo e il guardiolismo. Certo, non è stata Paris Saint-Germain-Brusse 5-0, ma non è stata neanche. Cioè, se devo preferire una partita tra Slavia-Praga-Barcellona 2-1 con quel gollonso di Suarez e la metodologia con la quale l'Inter, senza parecchi titolari, con in campo calciatori che giocavano con Pioli, se penso a come l'Inter è riuscito a portare a casa questa partita, sbagliando con il rigore, io faccio un incomio all'Inter e quindi sono in parte d'accordo con chi in effetti si è lamentato sul titolo brutta Inter. Vado a caccia del Menghi, ok? E anche del Barone, ma soprattutto in questo caso del Menghi perché c'è da parlare di calcio. Menghi, dove sei?